Oggi vi voglio proporre un quiz, un indovina quiz. Se indovini te ne do un grappolo. Si tratta di capire a chi appartengono le parole che io vi leggerò. Non sono di Prodi, non sono di Brunetta, un pochino più basso, mirate più basso, ma adesso vi leggo quello che dice questo nostro personaggio nel giugno del 1989 in una rivista che ci ha portato un'amica, un foglio, 8 marzo, periodico del gruppo femminile della Perugina. Vediamo, anzi leggiamo che cosa dice questo nostro personaggio. In questi anni il settore privato è stato investito da grandi processi di ristrutturazione che hanno significato purtroppo non solo espulsione di mano d'opera, ma anche una necessità di adeguare l'organizzazione interna alle nuove situazioni. Questo processo purtroppo non ha investito a tutt'oggi il comparto pubblico e in Italia se dovessi isolare una grande esigenza e dare un nome ad una grande riforma, farei la riforma della pubblica amministrazione. Il punto primo da affrontare è quello di cambiare i contratti di lavoro. Io per esempio concordo totalmente con quanto dice Trentin e la CGL, con la posizione in base alla quale anche nel pubblico impiego occorre inserire contratti di lavoro di natura privatistica, che rispondono quindi al diritto del lavoro e non alle normative del pubblico. Ciò significa che si debba premiare il dipendente che lavora con impegno, si debba non premiare e al limite anche punire il dipendente pubblico che non fa il proprio dovere. Parole da leader, parole di chi ha una certa opinione e che in quel pubblico aveva capito che troppi non avevano nulla da fare ed eppure erano quei troppi che alimentavano il pubblico. I nullafacenti, come qualcuno lo direbbe, siamo nel 1989, 20 anni fa. Si parlava tanto del lavoro pubblico, c'era chi lavorava in fabbrica e prendeva tre soldi e chi lavorava nel pubblico e prendeva un buono stipendio. C'è chi se spezzava la schiena e chi faceva 8-14 e buonanotte al secchio. Chi sarà questo personaggio misterioso capace di dire tali cose nell'89? Chissà se questo personaggio poi avrà mantenuto questa capacità di visione, di desiderio di regolarizzare la macchina pubblica. Magari, chissà, forse un giorno gli sarà capitato di essere lui a comandare, quindi a cercare di mettere lui mano sulla macchina pubblica. Chi sarà che ha scritto questo splendido saggio rispondendo ad una intervista? Queste nobili parole in cui gli operai delle fabbriche pagano per tutti e il pubblico non paga mai. Ve l'ho detto, voi pensate troppo a Prodi, pensate a Veltroni, pensate a Franceschini, pensate troppo allo stesso Rutelli? No, è di sinistra, non è di destra, anche se le parole oggi potrebbero venire da un uomo di destra come Maroni, come Brunetta, come il Cavaliere. In realtà a giugno del 1989, a venti anni esatti da questa data, su 8 marzo, mensile delle donne, il movimento femminile della Perugina, a dire quelle nobili di parole, fu Renato Locchi, vice sindaco di allora del comune di Perugia. Non avete indovinato, vero? Eh lo so, me l'immaginavo, ma ciò che è detto oggi difficilmente potrebbe essere vero domani. Le promesse e i presupposti che ci sono oggi difficilmente, da buon politico, anche se è di sinistra, saranno mantenute all'uopo quando accadrà o quando dovrà accadere.